andiamo guarda come sta no 21 luglio la telecamera si spegne e ria di registrare i video ciao a tutti bentornati bentornati a noi bentornati a voi dopo tanto tempo perchè stamarite perchè abbiamo già fatto il vlog nel senso c'e abbiamo 12 minuti di audio hakim per piacere e ci siamo accorti dopo che abbiamo finito che la telecamera era miracolosamente spenta quindi continuiamo ad essere dei grandi e quindi il primo topic non ci siamo fatti sentire tutto questo tempo perchè quest'anno era l'anno della celeberrima maturità maturità 2k15 2k15 che è? K sta per? per 1000 2015 2015 che è nuova però l'hanno messa anche non solo nella maturità tipo tutti gli hashtag che ci stanno 2k15 2k15 vabbè noi del 96 si devemo sempre fare io noce no? io mo c'ho l'ansia beh abbiamo affrontato le nostre prove le nostre tre prove più lorale le nostre fatidiche di Hercules esattamente dei nostri giovani della nostra etate niente che dire vi posso raccontare dello stupore causato dalla prima prova praticamente io mi ero preparato su quasi tutti gli autori italiani a parte tanti che abbiamo fatto poco quest'anno quindi se capitava a lui già ero morto già avevo 0 punti a prima io tanto l'ho fatto il terzo noi invece abbiamo continuato secondo siamo vabbè dai e niente poi mi capita vedo dico mo bada una spada calvino porca miseria però l'ho fatto lo stesso non perchè sia pazzo ma perchè ho letto il libro che libro? il sentiero dei nidi di quello? quello? è meraviglioso e poi c'è quel pezzo verso la via e c'è il sentiero dei nidi di ragno di ragno che è di calvino no? si si no io invece ho fatto 97 e basta il secondo topic di questo vlog di questo grande ritorno è il nostro grande amico estivo che è che è il grande cazzo il grande caldo che insomma ci accompagna da un po' di settimane è un aumento di giorno in giorno cioè ci stanno i meteo i meteo i meteo i meteo i meteorologi che cioè ogni giorno se ne escono e domani c'è il picco domani fa ancora più caldo domani si sa dobbiamo arrivare ci stanno 46 gradi all'ombra grati grati perchè ci sono 46 gradi all'ombra però però ci sono i temerari ci sono perchè ancora si vengono in giro gente con gli scarponi le scarpe da trek i trekking quelle proprio da montagna ci avete presente quelle che si mettono i tedeschi per andare su sugli appennini cioè quelli immaginatevi i boy scout tedeschi con i borsoni con gli shorts marrone e beige con i corsettoni bianchi e con i trek e con le scarpe da trek quelle là con gli scarponi in stile timberland io non so dovevano andare con 60 gradi all'ombra a roma con gli scarponi da trekking l'ultimo topic lo suggerisce poche cose lo suggeriscono in questo vlog effettivamente il titolo non lo suggerisce le maglie no no e quindi però però walkie talkie se fai un po' un anagram esce la parola muse quindi si fa stare al nostro primo concetto almeno personalmente anche di una band si io ho visto giusto quello degli degli zero assoluta 8 anni nella piazzetta del paese di nonna ma non penso sia la stessa cosa e quindi che dire se non che abbiamo strillato come un puletre in calore infatti abbiamo degli estratti video abbiamo degli estratti video appunto del suddetto concerto a capannelle al poste pay rock in rom dove appunto sentirete urlare delle donne quelle donne quelle donne siamo noi quindi eccovi a voi i the best moments e e quelle donne le donne io e io e il Grazie a tutti. 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 No, non ci hanno pagato i Muse per parlare bene del concerto. Abbiamo pagato noi, non ci siamo compariare i maglietti. Siamo un po' divertiti, divertimento, siamo un po' fan. Ok, con questo io vorrei... Mi piacete, come sempre, commentate, riscrivetevi se non siete ancora iscritti. Se siete ancora iscritti, disiscrivetevi e iscrivetevi. E' stupendo il se siete ancora iscritti, se dopo tutto sto tempo siete ancora iscritti. Ti dicete, avete una volontà d'acciaio. Disiscrivetevi e riscrivetevi. E niente, allora ci vediamo al prossimo video delle faggiare. E quindi, salve a tutti e buono scotch. E quindi... Grazie.